Il ragazzo cattivo, Chekhov Ivan Ivanovich Lapkin, giovane di bella presenza, e Anna Semionovna Zamblicka, ragazza dal nasino all'insù, scesero lungo la riva scoscesa e si sedettero su una panchina. La panchina si trovava proprio accanto all'acqua, tra i fitti cespugli di una giovane macchia di salici. Ci si sedeva lì e si erano nascosti a tutto il mondo. Vi potevano vedere solo i pesci e i ragni acquatici, che correvano come fulmini sull'acqua. I due giovani erano armati di canne, ami, barattoli con i vermi e altri arnesi da pesca. Si sedettero e subito si misero a pescare. Passarono cinque minuti in perfetto silenzio. — Sono contento che siamo finalmente soli, cominciò Lapkin, dando un'occhiata intorno. — Vi devo dire molte cose, Anna Semionovna. — Sì, molte cose. Quando vi ho visto per la prima volta... Attenzione, sta boccando alla vostra lenza. — Compresi allora perché vivo. Compresi che è la divinità a cui io devo consacrare tutta una vita onesta di lavoro. Quando vi ho visto, mi sono innamorato per la prima volta. Furiosamente, appassionatamente. Aspettate a tirare su. Lasciate che abbocchi meglio. — Ditemi, mia cara, vi scongiuro. Posso sperare? — Oh, no, non nel vostro amore. Io non lo merito. Su, tirate! Anna Semionovna sollevò la mano con la canna, dette uno strappo e lanciò un grido. Nell'aria guizzò un pesce verde e argento. — Dio mio! Un pesce persico! — Oh no! Si stacca! Il pesce si staccò dal lamo, saltò nell'erba verso il suo elemento naturale e si gettò in acqua. Inseguendo il pesce, come senza volere, Lapkin afferrò non il persico, ma la mano di Anna Semionovna, e senza volere se la portò alle labbra. Lei fece per ritirarsi, ma era già tardi. Le loro labbra si unirono, senza volere, in uno di quei primi baci stereotipati, che, stando ai racconti dei miei colleghi, sono dolci per la novità e la durata. Al primo seguì un secondo bacio, e poi i giuramenti e promesse. Minuti felici. E però, non esiste qualcosa di perfettamente felice. La felicità di solito porta in se stessa il veleno, oppure avvelenata da qualcosa di esterno. Così fu anche questa volta. Mentre baciava Anna Semionovna, Lapkin udì una risata. Guarda su. Guarda verso il fiume e rimase sconcertato. Immerso nell'acqua fino alla cintola, si era un ragazzo, nudo. E raccoglie al fratello di Anna Semionovna, un ginnasiale. Stava lì in acqua, e li dacchiava. Maligno. E così vi baciate, disse. Benissimo. E io lo dico alla mamma. Spero che voi, come persona onesta, prese a brobotare Lapkin tutto rosso, spiare e da vigliacchi, e fare la spia è anche peggio. Voglio sperare che voi, come onesto e nobile, datemi un rubro e non lo dirò, fece Colia. Altrimenti dirò tutto. Lapkin si tolse un rubro dalla tasca e lo dette a Colia. Lui lo strinse nel pugno bagnato, fece un fischio e nuotò via. Da quella volta, Lapkin e Anna Semionovna non si baciarono più. Di sera, Anna Semionovna sorprese Colia a rubare la marmellata in dispensa, ma non usò le maniere forti. «Se lo dici alla mamma», disse Colia serrando i denti, «dirò tutto». Il giorno successivo, tornando dalla città, Lapkin portò a Colia dei colori e una palla, e la sorella gli regalò tutte le scatole per le pillole. In seguito, dovettero regalargli i gemelli con le teste di cane. Ma questo sarebbe stato niente, se si fosse limitato a sfruttarli. No, egli giunse molto oltre, fino a un livello intollerabile. Cominciò a spiarli. Dov'erano Lapkin e Anna Semionovna, lì c'era anche lui, e non li lasciava soli un minuto. «Vigliacco», digrignava ai denti Lapkin, «così giovane e così vigliacco». Per tutto il mese di giugno, Colia non lasciò vivere i due poveri innamorati. Minacciava di denunciarli, li spiava, li sfruttava. Alla fine cominciò ad accennare addirittura un orologio. Ma, in luglio, la fortuna arrise agli innamorati. Un giorno, a pranzo, Colia si mise a fare il matto. Faceva degli omini con la mollica di pane, si scolava il vino rimasto in fondo ai bicchieri, fischiettava in continuazione. Quando arrivarono al dolce, si mise improvvisamente a tossire, strizzò un occhio e domandò a Lapkin. «Lo dico, eh?» Lapkin e Anna Semionovna abbassarono lo sguardo. Colia, senza neppure aspettare risposta, si rivolse alla madre e raccontò tutto. Lo raccontò in presenza degli ospiti, della servitù. «Sto nuotando, bambina, guardo e vedo che si baciano!» Lapkin divenne rosso fuoco e invece di dare un morso alla cialda, lo dette al tovagliolo. Anna Semionovna salto su da tavola e fuggì in un'altra stanza. Dopo pranzo, Lapkin, ancora un po' confuso, dopo essere sprofondato sotto terra dalla vergogna, si accostò alla padrona di casa e chiese scusa. «Le mie intenzioni erano oneste», disse. «Le chiedo la mano di...» Per un'ora intera contrattò con lui la futura suocera. I buoni partiti adesso sono rari. Infine trovarono un accordo. Ricevuto il consenso, Lapkin colse in giardino e cominciò a cercare Colia. Quando lo trovò, con un ruggito lo afferrò per un orecchio. Per l'altro orecchio lo prese Anna Semionovna, che pure aveva cercato e trovato Colia. Bisognava vedere la gioia che era dipinta sul volto dei due innamorati quando il ragazzo cattivo faceva smorfie di dolore. Dolce la vendetta! Iscinn 47240608401201131030134j4164 Ascinn 47220920155 Iscinn 48220146416 buoni